Malvezzi quotidiani, l'economia umanistica spiegata bene. Ieri dicevamo che mediamente da una ricerca condotta da 38 liberi professionisti italiani della mia rete, prevalentemente dottori commercialisti e tributaristi, risultava l'anno scorso una media mediana del prelievo prossima al 51% per i loro clienti. Proseguo, significa che statisticamente sui clienti degli studi che hanno partecipato all'indagine, oltre alla metà del reddito prodotto in Italia, non risulta spendibile per l'imprenditore. Naturalmente, i più scettici su tali dati potrebbero argomentare che si tratti di dati episodici o casuali o riferiti a una precisa e sfortunata area geografica oppure a un settore particolarmente sfortunato. Al contrario, la ricerca è stata effettuata su studi professionali operanti in tutte le regioni italiane, in diversi sistemi e settori produttivi, su differenti comparti economici, tra i quali agenti di commercio, artigiani, assicuratori, commercianti, settore edile, ditte individuali, liberi professionisti, promotori finanziari, soci di società di persone e via discorrendo. Si tratta, come pare evidente, del sistema della microimpresa italiana, cioè delle imprese più piccole e più deboli. E qui qualcuno potrebbe dirmi, ma perché tu parli sempre di questi? Beh, parlo di questi perché sono, da una parte, gli ultimi, i microimprenditori, e dall'altra sono i più numerosi. E paradossalmente sono quelli che tengono in piedi tutta una piramide rovesciata, nella quale sopra c'è tutta la burocrazia e sopra ancora il mondo politico italiano. Cioè tutta la struttura della macchina pubblica si regge fondamentalmente su questi disgraziati, che sono i piccoli microimprenditori soprattutto, che pagano più degli altri, che andranno in pensione con una pensione più bassa degli altri. E queste cose non le sto inventando io, derivano, come vi dicevo anche ieri, da una ricerca condotta presso i commercialisti tributeristi della mia rete, che hanno seguito il mio corso Masterbank, che sono tributeristi e commercialisti, 38 di loro hanno fatto questa indagine, quindi è un campione abbastanza significativo, condotto in tutte le regioni e in tutti i settori. E se siete piccoli e microimprenditori, commercianti, assicuratori, ditte edili, società di persone, eccetera, ma anche purtroppo liberi professionisti e forse commercialisti o tributeristi, queste cose le sapete meglio di me. E se volete confrontarvi con me, vi lascio il mio numero WhatsApp 351 821 9970, solo imprenditori e solo commercialisti o tributeristi, perché io mi occupo di queste cose e non di altre questioni. Solo messaggi scritti e solo WhatsApp. La morale di questa favola è che in Italia noi abbiamo un trattamento asimmetrico anche sotto il profilo fiscale e purtroppo i piccoli imprenditori e i liberi professionisti sono in questo momento quelli più tartassati, purtroppo questo momento dura ormai da troppi anni. Buona economia umanistica!